Un posto al sole anticipazioni, trama puntate, martedì, 24 maggio 2022. Ornella rimprovera duramente Rossella, dopo che la ragazza ha avuto un vivace scontro, con Virginia in ospedale. A complicare ulteriormente la situazione, concorre l'insistenza di Riccardo nel voler a tutti i costi, avere un confronto con la Graziani, alla quale vengono meno concentrazione e benessere psicologico. La carriera lavorativa della giovane dottoressa è gravemente compromessa? Le conseguenze sul lavoro potrebbero essere catastrofiche. Michaela e Manuela chiedono a Nico di poter trascorrere le vacanze estive con il piccolo Jimmy. L'avvocato non prende la loro iniziativa nel migliore dei modi. Una volta giunti a Siena, con lo scopo di scoprire la verità sul dottor Sarti, Guido e Mariella si distraggono un po' dal loro piano, godendosi a pieno le meraviglia della città. Ferri chiarisce a Lara, di non voler riconoscere il bambino. Grazie a tutti!